Vi è piaciuto il primo episodio e quindi continuiamo con The Elder Scrolls Online Io sono morendo di freddo, non potete capire quanto freddo sento Infatti se mi vedete ogni tanto fregare le mani per riscaldarmi perché sono praticamente in ipotensione Come si dice? Ipotensione? Ipotermia? Ipotermia? Forse? Comunque ragazzi, oh mi raccomando, rompete quel tasto e like Siamo facendo una main quest e dobbiamo ottenere delle chiavi Non mi ricordo come si è arrivato qui E mi è stato confermato dai ragazzi nei commenti che praticamente la cosa piccoliore di Ezo Che è la cosa che più mi fa paura diciamo E il fatto che i nemici si sinkano sempre col tuo livello E quindi questa cosa ti dà la possibilità di andare dove ti pare anche a Skyrim eccetera Perché tanto il tuo livello non conta Ma io avevo fatto una domanda molto specifica nello scorso episodio Ovvero, ma se io expo parecchio e potenzio bene il gear Riesco comunque ad avere un PG forte Lui dovrebbe avere la chiave, ma devo derubarlo? Devo derubarlo E' ubriaco marcio Ok, io l'ho presa Devo entrare dentro una miniera Oh, cos'è quello? Un Aerodactyl? Sputta veleno Ok, era pure facile Vi faccio molti mob Adesso gioco in prima persona, vediamo dopo quanto miniera da unitare Eh, non vedo dove vai per terra Madonna Oh, no, no, ok Togliamo la prima persona Chi è? Ma dai, ma guarda dove sta Entra... no, non entra Chris, non entra se c'è nemici Non lo sapevo La motivazione per la quale sono morto Grazie Me ne ho accorto da solo Fammi entrare Ok, entriamo nel mood Silenzio Viviamo La caverna Si può andare anche in stealth Proviamo E' stata una bella intesa Fra me e lei Ho letto tutto Ah, là c'è del veleno Anche lì Ok Ma mi fa danno se mi avvicino? Voglio lottare Non c'è l'ultimo Mi fa danno? Mi fa danno? E' anche bella grande seminiera Sto continuando a scendere Ok, sono arrivato verso la fine Qua c'è un argonino morto Ho letto tutto Cerca le rovine dedriche Non è pieno di nemici Dai, ti mi stacco Ah, vediamoci Uh, Greyzord Spè, spè, spè Dan Cadavra l'ho ottenuta E' molto più forte della mia E fa anche 2059 di froze damage Vai, mettiamola Quindi tipo ghiacciata Il dano mi sembra praticamente identico Però c'è dei particolari in cui si vede che tipo Freeze è il nemico Non so a che cazzo serve Forse è solamente danno aggiuntivo e basta Livello 6 Applaude Oh, posso sbloccare un buff Chiamamente l'attacco del 20% Cioè il danno che faccio Che figa La spada di fuoco Su una spada di ghiaccio Uh, guardate l'eventazione ragazzi Ma chi cazzo vuole leggere? Cosa? Ok Voglio leggere io Il fatto è che le skill praticamente Praticamente Il fatto è che le skill praticamente non abbiano un cooldown Io posso spammare il buff E tenerlo praticamente sempre attivo Perché non ha cooldown A massimo mi spreca Magica Ma comunque ti dà un ritmo nel gameplay migliore Buff, attacca Buff, attacca Tiene anche semplicemente l'arma buffata Molto carino questa cosa Proprio nel gameplay stesso Ti permette di avere sempre l'attenzione A tenerti insomma Va bene Archi incrementato a 2 Leggerò sempre tutti i libri adesso Doppie spade incrementate al 2 Sempre sbagliato fino a questo momento A non farlo Laboratura ed edrico Eh, grazie Di te ma cosa servono gli oggetti questi qua ragazzi Devo parlare con un suo tizio Che sta malissimo Perché è avvenenato tutto il giorno Sta qui da anni Uh, cosa è sta roba? Scrivetemelo nei commenti Madonna quanto sta male Ok possiamo uscire Ci ho fatto prendere una formula Io ho letto e non vi dico Per cosa Perché dovete scoprirlo voi Ragazzi devo dire che più continuo questo gioco Più è molto molto chill E più di quello che pensavo Solo che devo capire Allora c'ho sempre quella cosa in testa Sarò rinondante Chiedo scusa Ma ce l'ho costantemente in testa Ovvero Se il mio Buon uomo salve Se il mio Livellare Equiparmi Migliorare il gear Serve relativamente a poco Perché I nemici comunque Si sincono col mio livello Cioè arriverò al punto In cui io sono così forte Col gear Che comunque ho usciuto tutti Oppure I parametri saranno sempre elincati Quello dei nemici al mio Ricordo un po' una vagina Perché ricordo un po' una vagina? Come faccio ad andare? Guarda che schifezza sto mondo Aspetta mini boss Credo di sì Perché c'ha Le cose viola Aspettiamo Dai Quanto scorreggia Muoviti Mostro Quando c'è quella roba lì Vuol dire che io ho rotto l'armatura? Che putridume Cosa mi ha droppato? L'anello? Ma è molto migliore del mio Mi ha inventato la magica di un botto Ah e volevo chiedervi Come faccio andare ad Cioè mi sa che serve il DLC Per Skyrim Se non servisse il DLC Come faccio andare ad Skyrim? Ah ehi Godo Testa di cazzo C'ha dato un arco? Vabbè perché vorrei un attimo Provare un arco? Ma non credo che io possa provarlo E invece posso provarlo Ma non è che non Porca troia Io ero un cittadino Oh cazzo Dovrò abbandonare il paese per un po' di tempo Comunque per mettere un punto skill Ho sempre comunque bisogno di un livello Io al più sì Ok possiamo ritornare in città Perché non siamo praticamente più ricercati Però la taglia non smette di esistere Cioè al massimo Non mi picchia Non mi arresta Ho messo l'elmo Madonna che brutto Ci sarà un'opzione per togliere sicuramente esteticamente Ma sono troppo piccolo per andare a controllare Mannaggia Dobbiamo esplorare dentro questa miniera Oggi l'episodio tutto in miniera Anche nella diva in greco L'ho congelata Con l'arma Ah Un passaggio segreto Oddio Entriamo Cos'hanno droppato Oddio sono un botto di nemici lì Lo vedo malissimo Continuiamo a distanza per un attimo Ma Che è quello lì? L'elevato nel seccorso ambro Your inventory is full Cazzo Ok dobbiamo ricordarci di svuotarlo 60 su 60 Ok usciamo e liberiamoci l'inventario Che è veramente pieno 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 Che freddo Che bel mood la pioggia A chi come me fosse un po' un felicista della pioggia Ve la lascio godere qualche secondo Ok 23 spazi su 60 Quindi siamo messo la scopa in testa Siamo più leggeri Ho guadagnato 282 gold Vendendo un po' di roba che mi sembrava inutile Ah questo vende Le mount 42k Ce l'ho 696 Che cazzo è appena successo? Meglio non farla incazzare alla tizia Ok teleport sbloccato Perfetto Ragazzi volete il continuo? Mi raccomando rompete quel tasto Dei like Iscrivetevi Perché i video che vi arrivano Se non siete iscritti Sono 5 su 20 Se siete iscritti E 20 su 20 Quindi chissà quanto trovo Vi perdete Io vi ringrazio per la views Edves Vi saluta E noi ci becchiamo Al prossimo video Ciao Ehi ciao Ti consiglio di guardare D'altri video Fallo